Io desidererei utilizzare lo spazio di questo intervento per alcune brevi considerazioni sul momento che stiamo vivendo e anche sui residui spazi di agibilità politica che sono rimasti in esso. Direi questo, la gestione attuale della pandemia, specificamente nella sua ultima fase, quella guidata dal presidente Draghi, si innesta in un modello di gestione neoliberale della democrazia che ha ormai una tradizione consolidata. Sin dalla metà degli anni 70, si pensi alla relazione della Trilateral Commission del 75, il problema che le democrazie moderne hanno presentato per le elite, soprattutto economiche, è stato quello di gestire un, come si diceva, eccesso di partecipazione. La democrazia ha infatti una sciamurata tendenza, come sapevano i vecchi liberali che la temevano, una tendenza a pericolose forme di populismo, consistente in cosa? Consistente nel fare tendenzialmente gli interessi dei più o addirittura di non voglia del popolo. Questo rappresenta naturalmente un elemento di turbativa e di preoccupazione per gli interessi delle elite economiche. Il contenimento di questa tendenza è avvenuto da un lato, attraverso il governo dell'apparato mediatico, il suo dominio, controllo, e dall'altro attraverso una dissuasione alla partecipazione. C'è però un problema che emerge in un sistema che è formalmente democratico quando in più non partecipa. Ad esempio, non recandosi alle urne o votando, turandosi il naso. Si tratta naturalmente del problema di una delegittimazione, di una mancanza di delegittimazione, che impedisce allo Stato neoliberale, che si vuole, si presenta come democratico, di agire con decisione ed energia. Ora, per venire incontro a queste istanze, diciamo così, decisioniste, è emersa negli ultimi cinquant'anni, non è cosa recente, la tendenza a limitare la rappresentanza democratica. L'abbiamo visto con la sostituzione di sistemi proporzionali, con sistemi maggioritari, e poi con l'introduzione di soglie minimi di accesso al Parlamento e simili. Però, parallelamente e concordemente con questi interventi istituzionali, si è imposta una tecnica governativa, chiamiamola una governance, caratterizzata dal ricorso all'emergenza, all'idea di una minaccia inderogabile, incombente, come chiave per poter giustificare una verticalizzazione delle decisioni, sottraendolo in questo modo ai tempi del processo democratico. Ora, che si tratti di eventi naturali, sono terremoti, alluvioni, incendi, pandemie, che si tratti di eventi politici o geopolitici, terrorismi rossi, neri, attentati mafiosi, terrorismo islamico, crisi finanziarie. Ecco, comunque il punto di caduta è che una situazione di minacce incombente, magari alimentata dai media, anche solo per ragioni di audience, si presta ad essere una leva potentissima per consolidare qualunque esecutivo e per affidare a una minoranza opaca le decisioni che contano. Questo procedimento può facilmente forzare sia le regole costituzionali che può piegare le norme vigenti. Questo perché? Perché l'urgenza, l'emergenza, fa abbassare il tasso critico e liquida tutte le richieste di chiarimento, di completezza di informazione, come zavorre, come formalismi, come ostacoli all'inderogabile e urgentissimo perseguimento del bene comune. Ora, questo impedisce allo Stato neoliberale, diciamo, questo modello si è ripresentato oggi puntualmente in occasione della pandemia di Covid-19 ancora in corso, particolarmente nell'ultima fase in cui, proprio mentre l'emergenza propriamente sanitaria iniziava a scemare e abbiamo visto che è subentrata una fortissima pressione al mantenimento, addirittura all'esacerbazione delle misure di controllo. Invece di agire in forme strutturali approntando un sistema sanitario capace di reggere l'urto di un'epidemia di fatto in via di endemizzazione, invece di investire in una sanità le cui capacità di intervento sono state sterminate negli ultimi decenni, si è preferito adottare una strategia, diremmo, militare di vaccinazione indiscriminata a tappeto, qualcosa che non lascerà traccia nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Nei processi dettati dalle strategie emergenzialiste si verifica un meccanismo di trasferimento automatico del potere dalla sovranità popolare o dal tentativo di sovranità popolare ad una elite di competenti, tecnici, professionisti alla cui expertise ci si appella come risorsa necessaria e indispensabile a far fronte alla minaccia. In questo modo, naturalmente, la democrazia scivola costantemente verso forme di tecnocrazia. Che i tecnici cui ci si appella siano militari dei servizi segreti, economisti di regime o anche selezionati esperti sanitari, questo è indifferente, perché non sono davvero questi a gestire la crisi. Questi sono scelti in modo normalmente opaco con la finalità di sostituire alla sovranità popolare il loro principio d'autorità. Una volta che l'esperto, il tecnico, si è insediato, la democrazia tace, perché per definizione l'expertise non è democratica. Ora, a questo punto qui è importante che chiedere una cosa. Questo tipo di strategia emergenzialista funziona per ragioni profonde, non facilmente scalzabili. Infatti, si appella ad un ruolo che è quello proprio dello Stato sin dalla sua nascita, cioè quello di difensore estremo di fronte a una minaccia, a un'aggressione. Questo è il punto di forza dell'esistenza di tutti gli Stati e non è facilmente rimpiazzabile. Date queste premesse, non c'è assolutamente nessun bisogno che un'emergenza sia costruita o inventata. In un mondo complesso di minacce reali ce ne sono e ce ne saranno sempre in abbondanza. Dunque, gli spazi per l'attivazione di questa logica di autoritarismo emergenziale sono sempre disponibili. Questo fatto crea però una fondamentale difficoltà a chi voglia o che tenda ad opporsi a queste tendenze in una maniera un po' troppo semplicistica, cioè mettendo in dubbio con una sorta di automatismo la legittimità dello Stato ad operare in questo modo. In sostanza, chi magari incomprensibilmente reagisce a queste dinamiche emergenzialiste con una sorta di rigetto automatico, agitando a priori il sospetto che l'eccezionalità dell'azione statale sia in quanto tale illegittima, o magari addirittura presentando la minaccia come fittizia, si condanna ad un inefficace minoritarismo. E la ragione qui è semplice. Che lo Stato possa avere quel ruolo di difesa d'eccezione è in dubbio. Così come in dubbio che uno Stato privo di questi poteri non è più uno Stato degno di nota. E d'altra parte l'alternativa alla mancanza di uno Stato non è una pacifica società anarchica, ma è normalmente l'esercizio senza filtri della legge del più forte, che sia il più forte militare o economico. Dunque, il terreno su cui si muove chiunque abbia cara l'idea di una democrazia come reale autogoverno del popolo è un terreno stretto, una strisciolina di terra racchiusa tra, da un lato, i fautori liberisti dello Stato minimo o nullo e dall'altro l'autoritarismo neoliberale dove lo Stato può anche essere interventista purché lo sia in quanto si fa portatore delle istanze dei poteri economici dominanti. Ora, questo stretto terreno è esattamente quello in cui si è mosso inizialmente il momento populista europeo di un paio d'anni fa che però è scivolato abbastanza rapidamente in parte dall'una e in parte dall'altra parte di questo crinale una qualche forma di populismo e in effetti almeno nelle difficili condizioni di rappresentanza odierna l'unica via disponibile per la riacquisizione di un protagonismo democratico. L'ascolto delle sofferenze e dello scontento che emerge dal basso nelle sue varie forme l'assunto che vi siano ragioni reali dietro a queste espressioni di disagio e dolore è il primo passo per creare un ponte che risani l'oiato tra democrazia formale e democrazia reale. In questo atteggiamento c'è una dimensione positiva di populismo che però corre il rischio di diventare una semplice rete a strascico scoordinata di istanze caotiche a cui non riesce a dare una forma politica. Senza una elaborazione di quelle istanze il lato positivo del populismo si converte facilmente nel lato negativo di una pretenziosa confusione che alla fine lascia il campo a chi ha magari meno consenso ma una volontà più precisa ad esempio semplicemente un ferreo senso del proprio interesse. Ora per uscire da questo impasse l'ascolto populista del popolo non deve limitarsi alla raccolta dei problemi ma deve conferirvi un ordine ed una linea esplicitamente alternativi da un lato alle opzioni del mercatismo da stato minimo e dall'altro all'autoritarismo tecnocratico proprio dello Stato neoliberale. Vi ringrazio molto e con ciò vi saluto.